E scelga il cancelletto di partenza per la finale della categoria Cruiser, Polinari, Dorme, Gaule, stiamo all'attacco di questa finale, categoria Cruiser, viva Sardin al lupo topo, è peggioro! E Polinari, Gaule in terza, in seconda, si può infilare a scattito di Dorme, e ancora Polinari, e poi abbiamo Dorme, Gaule e Pantermoise per il congiorgio Cortella in quinta, quarta, quinta, sesta posizione.